Per la nostra azienda il futuro della manutenzione, essendo io responsabile e coordinatore di un team di asset management per la produzione di soluzioni software per la gestione della manutenzione e il monitoraggio del consumo energetico, non è solo il futuro della manutenzione ma anche il presente. Infatti lavoriamo costantemente al fianco dei nostri clienti per proporre soluzioni innovative per la gestione dei processi tecnici e manutentivi a prescindere dall'interfaccia. Come mi piace dire costantemente noi non produciamo solo software di manutenzione ma aiutiamo i manutentori a fare meglio il loro mestiere e questo significa costantemente lavorare al fianco dei nostri clienti industriali, nel mondo del facility management e a prescindere dal settore merceologico per creare soluzioni che consentono di allungare il ciclo di vita dei beni, contenere i costi di gestione dell'operation e migliorare l'efficienza nel tempo delle apparecchiature. E questo sempre con nuove tecnologie, integrazioni con gli impianti, attraverso nuova sensoristica che può interfacciarsi con il nostro applicativo e offrendo un'esperienza d'uso ai nostri clienti sempre innovativa e migliora nel tempo.